Ciao amica, ciao amico, amica Marcello faccio questi video perché sono un appassionato di moto se anche tu come me lo sai iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno così sarai sempre aggiornato, aggiornato sui nuovi contenuti e ti ringrazio oggi ti parlo di Moto Guzzi V7 GT California 850 del 1972 prima di partire voglio salutare l'amico Warner che ha contribuito attivamente allo sviluppo del canale ha restaurato il suo Malaguti MRX50 del 1989 la sua officina di riparazione auto si chiama WM Autoservice si trova in via San Michele 15 a Briccheragio in provincia di Torino per un contatto immediato puoi chiamarlo al telefono 338 22 39 795 te lo dico perché c'è uno sconto del 10% se ti presenti a nome del canale quindi saluto l'amico che si firma Lu Bolz che ha scritto questo commento rispondendo a Marco che ha scritto così una delle moto più belle mai costruite forse la più bella quindi facendo riferimento alla 1100 poi ti metto qui California qui sotto in descrizione anzi no a termine del video ti metto proprio il collegamento il link al video dove ne parlo se ti interessa anche io pensai lo stesso quando rispose Lu Bolz lo risponde Lu Bolz lo stesso quando la presentarono ero ancora un adolescente e leggevo motociclismo e motosprint poi un giorno vide la V7 GT 850 California e la California 1100 passò in seconda posizione quindi vediamo di parlare di questa 850 così tracciandone le note salienti prima però un po' di storia brevemente perché parliamo da parte la storia dalla V7 degli anni 70 che costituisce di fatto un'ottima base perché Motoguzzi sul sollecito dall'esportatore americano partecipò alla gara per la fornatura di motocicli per il dipartimento di polizia di Los Angeles il Los Angeles Police Department e l'APD e scelse proprio Motoguzzi preferendole ad altre con le altre concorrenti il prototipo per la prova fu definito anche grazie all'indicazione di un sergente del dipartimento che era stato inviato per la supervisione alla realizzazione appunto di questo prototipo questo modello della Motoguzzi Qualifoni viene poi presentato al sorolo di Milano del 1971 quindi vediamolo a questo punto in questa immagine e vediamo che presenta le caratteristiche scusa che di fatto l'hanno caratterizzata per quanto riguarda proprio la presentazione alla polizia quindi manubrio a corna di bue tipico delle moto americane ampio parabrezza in questo caso c'è un parabrezza di media dimensione però in quale della polizia forse era ancora più ampio è ampio sellone anche vediamo qui questo bellissimo sellone che può accogliere tranquillamente due persone e poi le caratteristiche tipiche della Motoguzzi ma andiamo con ordine quindi partiamo dal motore che è un bicilindrico scusa, un bicilindrico a V90 gradi tradizionale motore Guzzi derivato ripeto dal V7 quattro tempi la cilindrata è di 944,05 cm3 la distribuzione a due valvole in testa col comando d'aste bilanciere la potenza massima di 64 cavalli a 6.500 giri al minuto il telai è un doppia culla è una struttura in tubi d'acciaio la sospensione anteriore è formata da una forcella telescopica idraulica fabbricata dalla Motoguzzi con gli steli da 35 mm di diametro il freno anteriore è a tamburo singolo vediamolo eccolo qui un po' meglio eccolo qua tamburo singolo a 220 mm a doppia camma mentre il freno posteriore è formato da un tamburo sempre con il diametro 220 mm ma a singola camma naturalmente la trasmissione cardanica una delle caratteristiche che fecero scegliere Motoguzzi fu l'affidabilità della moto e in secondo luogo anche la facilità nella manutenzione poi al posteriore siamo in presenza della sospensione con il forcillore oscillante gli ammortizzatori irregolabili su tre posizioni le ruote a raggi sono da 18 pollici all'anteriore come il posteriore il serbatoio di generosa dimensione da 22,5 litri con un peso secco di 235 kg e una velocità massima dichiarata di 180 km orari se ti è piaciuto il video metti like se non ti è piaciuto metti dislike ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi primo gratis non ti costa nulla ma contribuisce alla diffusione del canale in secondo luogo faccio un video al giorno quindi sarai sempre aggiornato aggiornato sui nuovi contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre molto graditi ciao grazie mille e buona serata